Mi raccomando, ragazzi, l'impasto dovete sentirlo, eh! Ho detto che faccio una ricetta tradizionale, la faccio! Parola d'ordine, tradizione! Ragazzi, oggi parola d'ordine, tradizione, eh! Non si transige, non si può sbagliare, infatti oggi parliamo della pizza! Tra l'altro, per me, dovrebbe essere simbolo dell'Italia, proporrei un referendum per cambiare la forma dalla nostra bandiera da rettangolare a tonda, perché la pizza è l'emblema di noi italiani. Sbaglio? Sbaglio? Non sbaglio. Tant'è, però, che la nostra bandiera è rettangolare, per cui oggi, anziché prepararvi la classica pizza tonda, farò una pizza in teglia. Parola d'ordine, tradizione! Prima di andare a vedere gli ingredienti, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina per ricevere le notifiche dei nuovi video di Big Italy, il mio format sulle ricette classiche italiane. Ricordate di seguirmi anche su Instagram, sono MocioHF, potete seguirmi nella mia vita quotidiana, in tutti i miei pasti golosi. Sigla! Ragazzi, partiamo con gli ingredienti, partiamo dall'impasto. Ci servirà della farina, del sale, lievito e dell'acqua. Andremo poi a condire con, tradizione, pomodoro, del basilico, abbiamo sempre la nostra piantina superba, e la mozzarella. Naturalmente, un filo d'olio extravergine d'oliva non esiste altro, ragazzi, per rispettare sempre la nostra pizza. La tradizione. Andiamo a vedere come si fa a fare l'impasto. Partiamo col prendere la nostra farina, ci aggiungiamo il lievito. Anche qui un piccolo trucchetto, ragazzi, dovete prima aggiungere il lievito, e andiamo a mischiare lievito e farina. Mi raccomando, ragazzi, non sbagliamo l'impasto, perché è la parte fondamentale. Andiamo ad aggiungere un pochino di acqua, non tutte insieme, perché sennò facciamo un gran casino. Iniziamo a mischiare, vedete che ce la sta assorbendo. Non aggiungiamo sale, finché non abbiamo incorporato prima tutta l'acqua e formato un pre-impasto, diciamo. Ce la sta prendendo tutta, con calma, ragazzi, mi raccomando. Quando vedete che diventa abbastanza corposo, andiamo ancora con un po' di acqua, possiamo iniziare a lavorarlo con le mani. Non saremmo certo noi che ci preoccupiamo di mettere le mani in pasta. Mi raccomando, ragazzi, l'impasto dovete sentirlo, eh. Se vedete che l'acqua è sufficienza, fermatevi. Possiamo andare adesso ad inserire il sale. Abbiamo già pesato. E continuiamo ad amalgamare. Naturalmente, ragazzi, non vogliamo fare le cose a casaccio, per cui vi ricordo che in descrizione del video trovate tutti i dosaggi perfetti. Ho aggiunto un filo d'olio, ragazzi. Vedete che il nostro impasto è diventato bello omogeneo, voilà. Lo lasciamo in questa ciotola. Lo copriamo con un pochino di pellicola. E lo lasciamo lievitare per due ore nel forno. Potete lasciarlo se avete la possibilità di impostare la temperatura sui 30 gradi. Oppure potete lasciarlo anche nel forno con accesa soltanto la luce. Ci sarà una temperatura adatta per favorire la lievitazione del nostro impasto. Se volete, avete paoglia, pazienza e tutto, potete farlo lievitare ancora 24 ore nel vostro frigorifero. Mentre il nostro fantastico impasto sta lievitando in frigorifero o nel forno, andiamo a condire il pomodoro. Qualche fogliolina di basilico. Ragazzi, non siete contenti che sto facendo queste cose così italiane? Andiamo a prenderle, le rompiamo sempre. Le mettiamo nel nostro bellissimo pomodoro. C'è giù un gonfilo di olio. Una bella pepatina e una spizzicata di sale. Diamo una rimestata. E lasciamo riposare nel frattempo che la nostra pizza, il nostro impasto, ha finito di gonfiarsi per diventare bello sofficioso e croccantoso. La pasta a questo punto ha circa raddoppiato, se non triplicato, il suo volume. Quindi prendiamo una teglia bellissima e andiamo con la sola imposizione delle mani, come diceva qualcuno, a stenderla in questo modo. Dobbiamo cercare di allargarla il più possibile, per cui la giriamo e cerchiamo di adattarla alla grandezza della teglia. Vi sento già a dire lì, ma quella non è la vera pizza napoletana. Va bene, ragazzi, non è la pizza napoletana. Sto cercando di fare una pizza tradizionale in teglia. È logico che non posso fare l'impasto napoletano e cuocerla nel forno a legna, bla bla bla. Non è che tutti a casa siamo dei pizzaioli, eh. Siamo quasi, vedete che la stiamo allargando per bene. Col mio dolce peso. Buonasera! L'impasto è abbastanza elastico. Andate se potete, ragazzi, a appiattire un pochino i bordi, e sennò mi resteranno particolarmente alti. Siamo andati quindi a stendere il nostro impasto. Io lo lascerei una mezz'oretta così a riposare. Dopodiché, trascorsa la mezz'ora, andiamo a versarci il pomodoro. Mi raccomando, ragazzi, anche qua abbiamo usato pomodori pelati. Siamo andati a schiacciarli a mano, perché ti danno un po' quella consistenza. Rimangono un po' pezzettoni così. Io li preferisco di gran lunga. Anche qui, lo so, bla bla bla, si usa solo il pomodoro San Marzano, ragazzi. Chiamo un po' di fare le cose. Come riusciamo. Senza abbondare eccessivamente, ragazzi. Sennò la nostra pizza poi fa fatica a venire su, a gonfiarsi, a cuocere. Eh, ragazzi, che ricordi da bambini, eh. La pizza con la mamma il sabato sera. La pizza fatta in casa, devo dire che per me rimane di gran lunga la migliore delle pizze. Non c'è pizzeria che tenga, mi spiace. Il tempo che aspetti, che è cotta, stai lì a guardare il forno. Io sono unico lì lì, che si mette lì fuori dal forno. Eeeh, quando è pronto la dura. Fantastico. Ragazzi, prendiamo la teglia e la inforniamo a 230, 250 gradi, anche se il vostro proie non lo consente, nella parte inferiore. In questo modo faremo una prima cottura di circa 15 minuti e andremo a creare una bella crosticina. sotto la pizza. Dopodiché inforneremo in un secondo momento la mozzarella. Prima infornata. Là. Adesso io sento già le vostre voci pipipi mocio e riseri tu che ti dicevi che facevi le ricette tradizionali, poi le bollete. CASE! Ho detto che faccio una ricetta tradizionale, la faccio. Alla fine la pizza con la salsiccia. È una pizza tradizionale, no? No! O una pizza coi funghi, non è una pizza tradizionale? No, God! Cioè, una quattro formaggi, ragazzi, ma più tradizionali così se volete. No! Quindi farò una pizza triplo tradizionale con funghi, salsiccia e quattro formaggi. Anzi, cinque formaggi che ci mettono anche un po' di parigliano. E la Madonna! Quindi andiamo subito a prendere un bello spicchietto d'aglio. Faccio così. Mi è caduto. Lo mettiamo in pentola con anche la sua camicia. Proprio una camicia coi baffi. Goccino d'olio. Fantastico. Adesso vi vedo già lì abbattuti perché voi speravate che io facessi una cosa di generis, una cosa fuori dalla tradizione italiana. Invece no. Ho lottato, ho resistito a fare una cosa assolutamente semplice e pacata. Quindi aggiungiamo la fessiccia adesso a questo soffrettino magnifico. Suono dell'amore inimmaginato. Un po' di fantastici funghetti. Mi raccomando, quei funghi perché vanno in niente, ragazzi. E gli diamo una salatina. Quanto è buono il pepe con i funghi. E lasciamo cuocere. Ok, ragazzi, i nostri funghi sono pronti. Vedete, abbiamo fatto un po' perdere l'acqua salandoli. Non eccessivamente, ragazzi, mi raccomando perché la salsiccia è già bella saporita e siamo pronti per andare a condire la nostra bellissima teglia di pizza fantasticamente morbidosa. Io farei in questo modo. Lasciamoci guidare dal nostro spirito guida napoletano della pizza e andiamo a condire questa tela a spandere dalle pennellate su questo capolavoro. Se c'è un amico che non mangia i funghi e la salsiccia potete lasciarlo a casa. E noi andiamo a condire tutta la nostra pizza con funghi e salsiccia. Condimento che assolutamente adoro, uno tra i miei preferiti. Avete presente quando andate in pizzeria ordinate il condimento e ve ne mettono due pezzettini. Ah, un buon mocio è uno di quelli che quando fa le cose le fa serio. Cosa ne dite? Ci siamo? Andiamo adesso con i quattro formaggi. Cosa abbiamo qui? Vediamo. Andava frontinando. Quindi andiamo a spennellare. Questo è scappato, lo recuperiamo. Poi il taleggio. Potete usare i formaggi che volete anatomica? Io ve la consiglio, ragazzi. E se poi mi viene sciolta? Ma che bello. Poi, sua maestà, il re dell'ammuffimento lo zola per farla tipo arti. Con quel gusto un po' piccantino. Sta sparendo la pizza sotto i condimenti, tra l'altro. A questo punto non ci rimane che mettere la mozzarella. Mi raccomando, anche qui l'abbiamo fatta scolare un pochino per evitare di avere troppa acqua sulla pizza. Chi siamo? Un pochino qui, un pochino qua e un pochino qua. Ragazzi, direi che siamo pronti per la nostra seconda infornata. Abbassiamo il forno a 200 gradi e mettiamo la pizza a metà. Dobbiamo far sciogliere i formaggi e farli diventare leggermente appena 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 crosticinati. Appena si sta affamando la crosticina tiriamo fuori, aggiungeremo il nostro bel parmigiano e andiamo in grill gli ultimi minuti per completare la cottura. Ragazzi, la nostra super pizza super tradizionale è pronta. Vi ricordo che abbiamo fatto una magnifica base margherita perché sulla base abbiamo costruito il nostro impero come fecero gli antichi romani. Quindi abbiamo fatto una quattro formaggi più salsiccia e unghi. Andiamo adesso a porzionare secondo la regola aurea che ben conoscete la nostra fetta di pizza quindi una dose abbastanza storica. Dovete sentire un po' di difficoltà sotto il coltello perché vuol dire che il formaggio ha incastrato tutto fantastico. Guardate, guardate il coltello come fatica ad affondare. Siamo stati abbastanza attenti a prendere un po' di formaggio un po' di salsiccia un po' di gioia che servirà lo spatolone dell'amore. Ragazzi, questa è la mia fantastica tradizionalissima personalissima pizza in teglia. Sono stato veramente fedele alla tradizione questa volta non ho ceduto al mio egoismo non ho fatto niente di assolutamente direi trascendentale non ci ho mica messo l'ananas ad esempio ancora vi ricordo prima di andare all'assaggio di questa favolosa pizza di iscrivermi al mio canale continuare a seguire il Big Italy il format della cucina classica italiana by Mocho e vi invito ad attivare la campanellina per rimanere aggiornati con i nuovi video e seguirmi su Instagram sono Mocho HF e adesso vado ad assaggiare questa bellezza con estremo piacere che mi ritrovo qui davanti a questa opera d'arte ogni gesto che abbiamo eseguito in cucina ogni azione ha portato a un risultato il risultato è questo è un viaggio un'esperienza è una favola che passa attraverso mille passi diversi l'uno dall'altro vedete con ognuna una sua particolarità ogni morso sarà un'esperienza qualcosa di divino un continuo su seguirci di scoperte di emozioni di croste croccanti salsiccia super sapolita formaggi extra filanti e assoluta italianità la pizza ragazzi è amore ci vediamo nella prossima puntata non stare mica chiudendo il video cosa clicca subito sugli alti bottoni per vedere nuovi entusiasmanti episodi di mocio's big it ci vediamo ci vediamo ciao ciao Grazie a tutti.